A Venafro scoperta dalle fiamme gialle una maxitruffa ai danni dell'erario due napoletane accusati di avere evaso al fisco oltre un milione di euro. Raggiunte le 5.000 sottoscrizioni per la raccolta firme promossa dagli indignati molisani per la proposta di legge che mira a dimezzare le indennità degli inquilini di Palazzo Moffa. Il consigliere provinciale di costruire democrazia Michele Durante chiede l'intervento della provincia di Campobasso per ostacolare la realizzazione del progetto Grammanze definito omicidio del territorio. Inaugurata a Campobasso la prima bottega italiana stagionale della Coldiretti Molise dove sarà possibile acquistare prodotti enogastronomici dagli aziende agricole molisane. L'Isernia torna nelle mani di una cordata di imprenditori pentri anche per il boiano potrebbe essere così Coppa Italia. Il Campobasso affronterà il Benafro. Bentrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli. In apertura c'è la cronaca perché due napoletani noleggiatori d'auto da poco a Benafro sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per avere evaso il fisco per oltre 1.800.000 euro. Sentiamo i dettagli nel servizio. Dal 2005 al 2011 un'impresa operante nel settore del noleggio di autoveicoli non ha mai versato nelle casse dello Stato l'IVA e ha sempre omesso di dichiarare al fisco i ricavi conseguiti dalle vendite. Per sei anni gli amministratori della società che hanno recentemente trasferito la propria sede dalla Campania a Benafro sono riusciti ad evadere il fisco per oltre 1.800.000 euro. A tanto ammonta la frode architettata da due uomini entrambi residenti nel napoletano e scoperta dalla Guardia di Finanza di Benafro a conclusione di una verifica fiscale. Dagli accertamenti eseguiti dalle fiamme gialle è emerso che due hanno sempre omesso di presentare le prescritte dichiarazioni ai fini fiscali, occultando le scritture contabili, obbligatorie all'evidente scopo di non consentire ai militari di ricostruire i ricavi conseguiti, circa un milione e mezzo di euro, mentre è di 350.000 euro l'IVA non versata. I due noleggiatori d'auto sono stati denunciati alla locale autorità giudiziaria per i reati tributari di omessa dichiarazione e occultamento di scritture contabili. E cambiamo argomento perché il consigliere regionale di progetto Molise, Nicola Eugenio Romagnolo, ha chiesto all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di revocare la delibera numero 115, ovvero il documento che affida al Presidente della Giunta il compito di tutelare l'immagine e il decoro della Regione. Secondo l'esponente della minoranza tale, provvedimento va a ledere il diritto all'informazione su temi che coinvolgono e sono oggetto di discussione tra i cittadini. Ritengo, evidenziato il consigliere, che ogni rappresentante delle istituzioni debba rispondere con responsabilità del proprio operato, così come gli stessi organi di informazione per tale motivo, credo ha concluso Romagnolo, che non sia necessaria alcuna delibera tutela del decoro istituzionale. Intanto tiene ancora a banco la questione dell'articolo 7 che disciplina il fondo di 2.451 euro destinato ai portaborsa della Regione Molise. Intanto la proposta di legge e di iniziativa popolare promossa dal Comitato degli indignati molisani per abrogare appunto l'articolo 7 e dimezzare le indennità avrebbe raggiunto quasi 5.000 sottoscrizioni. Sentiamo. Continua a far discutere e a tenere banco la questione dell'articolo 7, ovvero il fondo di 2.451 euro destinato ai portaborse. La questione sembrerebbe al momento bloccata in prima commissione a causa delle proposte di legge opposte tra chi vorrebbe regolamentarlo e chi vorrebbe invece abrogarlo. Il prossimo Consiglio regionale tornerà a riunirsi dopo più di 15 giorni e la proposta di legge regionale che disciplina l'articolo 7 non sarà all'ordine del giorno. A vigilare attentamente sulle decisioni del Consiglio regionale il Comitato degli indignati del Molise, fautore della manifestazione anticasta indetta lo scorso 1 ottobre e di una raccolta firme per dimezzare le indennità dei politici locali. La raccolta a sostegno della proposta di iniziativa popolare per chiedere proprio l'abrogazione dell'articolo 7 ma anche il dimezzamento degli emolumenti avrebbe raggiunto quasi 5.000 sottoscrizioni. Intanto i rappresentanti del Comitato Promotore, Domenico Di Lisa e Gigino D'Angelo, hanno reso noto le nuove tappe e luoghi della raccolta firme. I cittadini di Termoli che volessero sottoscrivere la proposta potranno recarsi nella postazione fissa di Piazza del Monumento a partire dalle ore 16, mentre a Isernia sarà allestito un banchetto in Piazza Celestino V sabato mattina dalle ore 9.30. Postazione fissa anche a Campobasso, aperta tutti i giorni in Piazza Vittorio Emanuele II. Occupiamoci ora dei licenziamenti alla Fondazione Giovanni Paolo II perché dopo l'incontro di ieri in Prefettura a Campobasso in cui si è cercato di tracciare un percorso comune per evitare proprio la perdita di 45 posti di lavoro per altrettanti infermieri della Fondazione Giovanni Paolo II. L'accordo sembrerebbe essere vicino, come ha reso noto l'assessore Michele Petraroia, si è ipotizzato di tracciare un cammino costruttivo fra tutti gli interlocutori coinvolti per sopperire all'equilibrio di bilancio dell'ex cattolica evitando i licenziamenti. In Prefettura si avvierà un confronto permanente allargato anche ai dirigenti IMS per disegnare una prospettiva di razionalizzazione dei costi che sappia far interagire tutti gli strumenti disponibili come la cassa integrazione in deroga, la formazione continua e i contratti di solidarietà concluso appunto il vice presidente della giunta regionale Petraroia. Intanto i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Patrizia Manzo e Antonio Federico, hanno chiesto al governo regionale di bloccare le procedure che hanno autorizzato alcune società di ricerca idrocarburi a mappare il territorio aprendo pozzi nel sottosuolo di Civita di Boiano, Santa Croce di Magliano e in futuro anche a Carovilli e a Dagnone, eravamo il paese del sole, si legge sul blog del Movimento, oggi rischiamo di diventare la groviera d'Europa, non è questo il Molise che vogliamo, timori del Movimento crescono anche perché la richiesta di mappatura del territorio per la ricerca di idrocarburi sarebbe in crescita, richiesta che attualmente dovrebbero essere al vaglio degli amministratori locali e regionali dei territori interessati oltre che della sovrintendenza dei beni archeologici. E aprire un tavolo di concertazione interistituzionale alla provincia di Campobasso per contrastare l'attuazione del progetto Gran Manza e invece la richiesta del Movimento di Costruire Democrazia e del consigliere di Palazzo Magno Michele Durante che si è detto pronto a iniziare una battaglia non contro qualcuno ma difesa del territorio molisano. Sentiamo. Una presa di posizione chiara e determinata quella del Movimento di Costruire Democrazia e del consigliere provinciale Michele Durante sul progetto Gran Manze, ovvero l'iniziativa dell'azienda bolognese Granarolo sui terreni del Basso Molise che dovrebbe portare a un insediamento di 12.000 vacche. Bestiame questo che dopo l'allevamento ritornerebbe nella stalla di provenienza in vista del parto. Un progetto che vede ora il Movimento di Massimo Romano pronto a dare battaglia e che è stato definito dallo stesso Durante un omicidio del territorio. Un delitto che sempre secondo Durante avrebbe avuto logiche strane anche per la trattativa privata fatta dalla politica locale e dall'imprenditore bolognese senza aver prima avuto un risconto sul territorio interessato. Noi abbiamo acquisito negli ultimi mesi la notizia dell'arrivo di questo impianto invasivo ed intensivo di allevamento, della parte peggiore dell'allevamento, cioè lo svezzamento. Chiediamo alla provincia, ma prima di tutto ci facciamo portatori sul territorio, di queste quattro analisi. Politicamente serve a chi e a che cosa questo tipo di insediamento? È la visione che noi abbiamo del futuro del Molise? Allevamento intensivo? O abbiamo una visione del recupero delle nostre tradizioni, del marchio di qualità sui nostri prodotti? Noi siamo per la seconda ipotesi e non per la prima. Parliamo di economia. A livello economico cosa porta un insediamento di questo tipo? Porta ben poco. Non ci sarà una concorrenza fortissima nei confronti degli allevatori locali, che già sono peraltro allo stremo. Ci sarà un consumo del territorio enorme, che viene sottratto all'agricoltura, principalmente per l'allevamento intensivo. Non ci sarà una ricaduta sui nostri agricoltori, perché il mangime verrà importato dall'esterno, perché per garantire questa massa di alimentazione noi non abbiamo risorse sufficienti. Il livello sociale? Qui si parla di creazione di posti di lavoro. Creazione di posti di lavoro, 30, forse 40, tecnici, neanche tecnici, spalatori all'interno, operai di pulizie, alcuni veterinari. Non c'è ricaduta di tipo sociale. Per tale motivo lo stesso esponente dell'ente di Via Roma ha avanzato una richiesta precisa alla provincia di Campobasso. Alla provincia chiediamo che prima di tutto si faccia soggetto promotore di una discussione interistituzionale, perché noi non accettiamo, io non accetto e chiederò che il Consiglio Provinciale si esprima in merito, che ci piova dall'alto un impianto del genere senza che nessuno possa esprimersi. Sono invece ore di grande attesa per la filiera avicola molisana, che aspetta entro oggi la firma dell'accordo tra la Regione Molise e il gruppo siciliano Leocata per il rilancio della produzione nell'azienda di Monteverde di Boiano. La firma del documento era stata annunciata già ieri nel corso dell'incontro che il numero uno di Via Genova Frattura aveva avuto presso lo stabilimento di Boiano con allevatori, trasportatori e dipendenti. L'Assemblea ha aderito, ha dichiarato Frattura a margine dell'incontro, alla proposta dell'azienda Avime che subito dopo la firma dell'accordo diffonderemo i numeri del piano industriale che il gruppo Leocata ha intenzione di attuare per il rilancio della filiera avicola molisana. Spostiamoci ora ad Agnone dove hanno preso il via i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale Caracciolo, gli interventi di riqualificazione sono stati programmati dal direttore generale dell'ASRE Mangelo Perco, poi in arrivo anche un radiologo e un nuovo biologo. Sentiamo. Cantieri aperti ad Agnone per migliorare la funzionalità del pronto soccorso dell'ospedale San Francesco Caracciolo. Da alcuni giorni si sta lavorando allo spostamento del centro prenotazione, all'ampliamento dell'impianto d'ossigeno e alla riqualificazione dell'ingresso principale dell'edificio. Mentre a breve partiranno i lavori per il rifacimento della copertura e della pavimentazione dell'area retrostante all'ospedale relativa al pronto soccorso e per la creazione di un box d'ingresso al lato del bar. Ha dato dunque i suoi frutti il sopralluogo del direttore generale dell'ASREM, Angelo Percopo, svolto nel nosocomio Alto Molisano il 15 ottobre scorso. Il provvedimento ufficiale, datato 22 ottobre 2013, è stato pubblicato sull'albo pretorio dell'azienda sanitaria regionale, ma non è tutto perché la delibera contiene buone notizie anche per il personale da mesi allo stremo per carenza di organico. Il direttore Percopo ha infatti deciso di incrementare la forza lavoro assegnando un nuovo biologo e un altro radiologo, figure fondamentali per il reparto di radiologia e per la copertura del servizio di laboratorio analisi H24. Il documento è frutto di una serie di incontri avuti dal presidente della regione Molise, nonché commissario ad acta della sanità Paolo Frattura, gli operatori sanitari del territorio e gli amministratori dei comuni interessati sulla necessità, si legge nella delibera, di rilanciare l'ospedale Caracciolo di Agnone in considerazione delle peculiarità geografiche, climatiche e demografiche del bacino d'utenza, confermandolo quale ospedale di area disagiata destinato ad acuti e post-acuti. Cambiamo argomento perché contrastare il fenomeno del femminicidio attraverso la campagna di sensibilizzazione post-occupato è l'obiettivo della proposta avanzata al Comune di Campobasso dai consiglieri comunali donne. Sentiamo. Una mozione in consiglio comunale per aderire alla campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio. La proposta avanzata dai consiglieri donna di Palazzo San Giorgio, Itzi, Cancellario, Niro, Cuomo e Perrella mira a promuovere anche nella città capoluogo l'iniziativa post-occupato. La campagna partita dalla siciliana Marianne Daloro, manager della casa editrice online, nella grande testata, che sta diffondendosi in tutto il paese, vuole infatti dar voce alle tante donne uccise per mano degli uomini. Ogni donna vittima di violenza, prima che un marito, un ex amante o uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, recita la stessa iniziativa, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola e metropolitana nella società. Un posto che deve continuare inevitabilmente a essere riservato a loro attraverso l'educazione e la formazione contro questa forma di violenza per far sì che la stessa società rifletta senza dimenticare. Al momento sono nate una serie di manifestazioni, noi anche ci riproponiamo dopo l'approvazione in consiglio comunale di questa mozione di condurre una serie di manifestazioni che potranno essere appunto incontri educativi nelle scuole, incontri pubblici, occasioni culturali di spettacolo, di presentazione di libri e quindi abbiamo deciso di aderire al progetto in maniera operativa anche perché siamo in rete con donne delle istituzioni di altre regioni. Cambiamo decisamente argomento perché è stata inaugurata oggi a Campobasso la prima bottega italiana stagionale della Coldiretti in Molise dove sarà possibile acquistare prodotti enogastronomici provenienti da aziende agricole molisane, un'importante iniziativa per orientare il consumatore verso un acquisto consapevole nel rispetto dell'ambiente e della stagionalità dei prodotti. Vediamo. Continuano le attività della Coldiretti Molise impegnata nella valorizzazione e nella promozione delle produzioni agricole locali. Oltre all'appuntamento del giovedì in piazza Municipio a Campobasso con gli stand di Campagna Amica è stata inaugurata questa mattina la prima bottega stagionale al cui interno è possibile trovare prodotti enogastronomici provenienti da aziende agricole molisane. Un'iniziativa importante di dialogo con il consumatore come ha precisato il presidente della Coldiretti Molise, Vittorio Sallustio. Questo è uno dei presupposti su cui noi come Coldiretti stiamo portando avanti quelle che sono le iniziative per la comunità, per le imprese. Un binomio che naturalmente per noi è inscindibile perché tutte le azioni che la Coldiretti mette insieme lo fa sempre con l'occhio verso la popolazione, la gente verso il consumatore. Nella bottega italiana stagionale sarà possibile acquistare prodotti attraverso la filiera corta, un segnale di attenzione al territorio e alla salvaguardia dell'ambiente. Il fil rouge sarà l'olio d'oliva, come confermato da Mena Aloia. Noi come famiglia proveniamo da un territorio fortemente legato all'olivicoltura che è Colletorto, quindi da sempre noi produciamo olio e da sempre abbiamo lo spirito di chi nella propria azienda accoglie volentieri il consumatore perché riteniamo fondamentale che il consumatore abbia il diritto di conoscere, di essere informato sul prodotto che consuma e noi come produttori abbiamo il dovere di dare queste informazioni. Ora da quest'anno abbiamo voluto fare un passo in avanti e per cui venire a Campobasso a portare quindi il nostro personale salottino, il nostro personale spirito anche in questa città, sperando che la gente possa venire, sentirsi libera assolutamente di entrare, di sperimentare, di conoscere, di capire e insieme all'olio naturalmente sperimentare tutti gli altri prodotti di Campagna Amica. Il rispetto della stagionalità deve diventare quindi il fattore determinante per un consumatore consapevole perché i prodotti agricoli nascono e maturano secondo i loro cicli naturali, non si costruiscono ma si coltivano. Obesità infantile e disturbi specifici dell'apprendimento di abete e mellito sono solo alcuni degli argomenti affrontati. Ieri sera nel corso della prima puntata di Salute e Sapori, il programma di Molise TV che coniuga la medicina con il comparto agroalimentare molisano. Vediamo. Al Via, la seconda edizione di Salute e Sapori, il programma di Molise TV che punta a promuovere e valorizzare le eccellenze molisane in campo medico-sanitario ma che mantiene un occhio di riguardo verso il comparto agroalimentare locale. Autorevoli ospiti si sono confrontati su problematiche che interessano i più piccoli, dall'obesità infantile alla dislessia. Il tutto affrontato in stretta relazione con il pubblico da casa che ha partecipato al programma attraverso il servizio di SMS. Sergio Zarrilli, pediatra di famiglia, ha focalizzato l'attenzione sul ruolo del pediatra nell'ambito della legge regionale del Molise. Noi abbiamo seguito un corso di formazione con il quale abbiamo imparato o perlomeno approfondito alcuni temi che comunque fanno parte del bagaglio culturale del pediatra di famiglia ma che ci spingono a guardare il bambino in maniera più approfondita, più specifica dal punto di vista particolare del suo sviluppo del linguaggio in primo luogo e poi delle sue attitudini appunto alla lettura e alla scrittura. Presente anche Graziella Vizzarri, coordinatore regionale dell'Associazione Italiana Dislessia che ha sottolineato le difficoltà vissute dai bambini e dagli adolescenti dislessici sui banchi di scuola. Un ragazzino, un ragazzo, dislessico un po' di tempo fa mi ha detto l'inchippo, se così lo possiamo definire, è a scuola, è sui banchi di scuola, è lì che io ho difficoltà in realtà non ho difficoltà quando mi incontro con gli amici, se sto un po' attento non devo leggere, devo togliere, essere dispensato tra virgolette da alcune attività ma per il resto io sono uguale agli altri. La logopedista Valentina Panichella ha offerto il proprio contributo professionale spiegando la modalità di approccio al paziente dislessico. La prima cosa che io personalmente faccio nel momento in cui mi ritrovo di fronte ad un bambino dislessico è quello di parlare innanzitutto prima con la famiglia, di rassicurarla e di cercare di dare loro tutte le spiegazioni e le informazioni relative poi al trattamento logopedico che successivamente verrà intrapreso, dopodiché passo al bambino e quindi c'è uno scambio con lui di conoscenza e soprattutto devo stabilirci un rapporto empatico che vuol dire un rapporto basato sulla fiducia reciproca il che ci permette di lavorare insieme, di iniziare un percorso. Anna Maria Macchiaroli, endocrinologa pediatra, ha poi affrontato una patologia diffusa tra molti bambini, l'obesità infantile. A differenza della dislessia che è una caratteristica, l'obesità infantile è una malattia, nel vero senso della parola. Una malattia che ormai ha una diffusione epidemica mondiale, tant'è vero che è stato coniato un termine, globesity, ad indicare come ormai questo fenomeno interessi tutto il globo. Sotto i riflettori di Salute e Sapore è anche il comparto agroalimentare molisano grazie alla presenza di Giuseppe Colantuoni, responsabile in relazione esterna della Coldiretti Molise che ha presentato le attività svolte sul territorio. Come Coldiretti noi abbiamo un'area definita e chiamata Campagna Amica che ha proprio il compito di dialogare, di ospitare, di interloquire continuamente con il consumatore e con tutti i cittadini, non solo per promuovere quelli che sono i prodotti tipici della nostra agricoltura. C'è un'area molisana che propone soltanto produzioni che vengono da aziende agricole molisane, ma soprattutto quello di creare uno stile di vita adeguato, salutistico e soprattutto una cultura diversa dal punto di vista alimentare. Salute e Sapore tornerà in onda il prossimo mercoledì alle ore 21 e streaming sul sito www.molisetv.com E intanto sabato 26 ottobre in Camera di Commercio a Campobasso sarà consegnato il premio imprenditrice dell'anno Maria Rossi Sabelli istituito dal Comitato per l'imprenditoria femminile dell'ente camerale, un importante riconoscimento che mette in luce le eccellenze del mondo imprenditoriale e lavorativo femminile della provincia di Campobasso. Anche quest'anno abbiamo voluto attribuire questo premio, ha affermato il presidente De Angelis, per sottolineare quanto il mondo femminile abbia raggiunto con il proprio lavoro importanti obiettivi e apportato significative innovazioni e competenze al nostro territorio. Bene, ed ora passiamo alla pagina sportiva. In primo piano l'Isernia Calcio che torna nelle mani della città. La cordata Monfreda, Cicchetti, Guadagnolo e Gentile sono i nuovi proprietari. Anche a Boiano intanto si è ci sono sviluppi sul fronte societario. Vediamo. Trova finalmente un po' di pace l'Isernia. Nella giornata di ieri a Vairano la società è stata rilevata dal quadrum virato composto da Mimmo Cicchetti, Giovanni Guadagnolo, Gianni Monfreda e Sante Gentile. In poche parole l'Isernia Calcio è tornata in mano agli Sernini. Di questo passaggio di consegne grande merito ha avuto l'assessore allo sport Cosimo Galasso che da mediatore tra le parti ha fatto tutto il necessario per riportare il titolo nelle mani della città. Ora questa proprietà, che altro non è che una proprietà ponte, dovrà gestire la situazione fino all'arrivo di nuove forze imprenditoriali disposte a supportarli. Per quanto riguarda il capitolo squadra, come promesso la squadra oggi è tornata ad allenarsi per preparare l'insidiosa trasferta di Agnone. Proprio in Granata, visto i pessimi risultati delle ultime cinque sfide di campionato, stanno puntellando la rosa per cercare di arginare la situazione difficile. Anche in casa Boiano tiene banco la questione società. Entro domani dovrebbe essere sancita l'entrata in società di nuovi soci. Anche qui si tratta di una cordata di imprenditori matesini. Per quanto riguarda la vicenda allenatore, per il momento la squadra si aliena agli ordini di Edoardo Gargiulo. Ma con l'ampliamento societario alle porte, il tecnico prescelto dovrebbe essere la cava. Sul fronte ai giocatori da segnalare l'assenza di panico alla ripresa degli allenamenti. Il giocatore ha chiesto la rescissione del contratto che lo lega al club Bifernino. Vedremo se la società lo accontenterà. Andiamo ora a vedere le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda la serie di Girone F. Queste le ammende della società a mille euro. All'Iserne un punto di penalizzazione e 200 euro all'Ancona per quanto riguarda i calciatori espulsi. Tre giornate a Luca Bellucci della Fermana, due giornate a Vincenzo Vespa della Renato Curiangolana, una giornata a Francesco Marfia del Celano e Giuseppe Calabrese del Termoli. Invece per quanto riguarda i calciatori non espulsi, una giornata a Matteo Loreti della Miteornina sul fronte allenatore. Invece in Coppa Italia sull'FC Molise, 6-0. Il risultato tennistico finale prossimo avversario nei quarti per i lupi bianconeri del Venafro. Vediamo. Il campo basso si impone in Coppa Italia contro l'FC Molise con un risultato molto ampio, 6-0. Per i lupi la prima rete porta la firma di Guglielmi intorno al ventesimo del primo tempo. Il fantasista supera un paio di avversari in dribbling e lascia partire un raso terra millimetrico che lambisce il palo e poi termina in rete. Il raddoppio porta la firma ancora una volta di Guglielmi, abile a farsi trovare libero su bel cross di Palumbo. Di testa in tuffo il numero 10 fa 2-0 al trentottesimo. Nella ripresa i lupi hanno diverse occasioni per chiudere la partita, ma sprecano molto. Il terzo gol arriva al settantottesimo con Pignataro subentrato ad un confusionario Scudieri. Il difensore trova la deviazione vincente di testa su cross di un ispiratissimo Guglielmi. All'ottantaduesimo è Di Lallo a segnare il 4-0 con una conclusione dal limite dell'aria che Cianciullo non trattiene. I lupi non si accontentano e sul finale di partita c'è tempo anche per la doppietta di Monti. All'ottantottesimo si fa trovare pronto sotto porta e appoggia in rete su bel cross di Palumbo e allo scadere dei minuti regolamentari realizza la sua doppietta con cross di Cianci. Un 6-0 forse troppo pesante per la formazione di Ugo Armanetti. Queste le sue parole a fine gara. Abbiamo fatto una fatica enorme. Abbiamo giocato 20 minuti, poi dopo di che abbiamo giocato molto male. Abbiamo corso poco e quando correvamo, correvamo nel modo sbagliato. Però ci sta col campo basso. Oggi giocavamo con addirittura un centrale difensivo centravanti, quindi eravamo proprio ridotti all'osso, non eravamo più attaccanti. È stato per noi un buon allenamento perché era ovvio, il risultato era scondato. Mister, lei che ha avuto un grande passato nel campo basso, inizio gara, un omaggio per lei. Sì, mi ha fatto molto piacere. Mi hanno regalato la maglia con il mio nome. Il mio cuore è rosso-blu, quindi sono molto felice per aver ricevuto questo dono. Vediamo ora gli altri risultati del ritorno degli ottavi di Coppa Italia. In verde le squadre classificate ai quarti. Campo basso 1919, Molise 6-0. Nuovo vinchiaturo Venafro 0-0. Olimpia Riccia, Comprensorio, Vairano 6-5. Sesso Campano, Rocca Ravindola 3-0. Virtus Pozzilli, Acli Campo basso 2-1. Real Termoli, Gioventù Calcio Dauna 3-1. Fornelli, Montenero 1-0. Cliternina, Alife 6-2. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni in meteo e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Il meteo è offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campo basso, in via Campania 215. Previsioni del tempo per venerdì 25 ottobre. Nuovo rinforzo della pressione sulle regioni di sud-est con sole prevalente. Ventilazione debole a direzione variabile e a regime di brezza lungo le coste. Mari quasi calmi e al più poco mossi. Temperature in lieve calo sia nei massimi che nei minimi. Vediamole nel dettaglio. Campo basso minima 11, massima 21 gradi. Isernia minima 12, massima 21 gradi. Termoli minima 17, massima 20 gradi. Il meteo è stato offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campo Basso, in via Campagna 215.